Sono Stefania, stiamo trasmettendo in diretta dalla Polisportiva Arci di Martina Franca una lezione a Fa per il mal di schiena a cura della WISP Valle d'Itria. Sono sette anni che partecipiamo attivamente alla Move Week che quest'anno si terrà fino al 3 giugno in tutta l'Europa. Una settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport per tutti e di stili di vita attivi che si svolge ogni anno in tutta l'Europa. L'iniziativa internazionale è promossa dall'ISCA, International Sport and Culture Association con l'obiettivo di incrementare del 20% il numero di europei fisicamente attivi entro il 2020. In Italia la campagna è coordinata dalla WISP con il patrocinio del Lanci e si tiene in 55 città dove saranno organizzati oltre 220 eventi sportivi con centinaia di volontari e di società sportive del territorio associazioni, aziende sanitarie locali ed istituti scolastici. Hanno inserito le loro proposte nel calendario della Move Week. La lezione a cui stiamo assistendo oggi, come detto prima, è quella dell'AFA per il mal di schiena. Per l'attività fisica adattata si intende una serie di programmi di esercizio non sanitari svolti in gruppo con esercizi disegnati per soggetti affetti da malattie croniche principalmente finalizzati alla modifica MIAFA, anche quello per la postura flessa e il mal di schiena ha come scopo primario quello di stimolare o mantenere uno stile di vita attiva e conseguentemente la partecipazione sociale tramite un programma di esercizio finalizzato al miglioramento del mal allineamento posturale e alla correzione del mal di schiena. Gli obiettivi specifici sono rappresentati dal miglioramento del trofismo muscolare in particolare a livello dei muscoli assiali, della flessibilità articolare Faccio ginnastica e anziani in movimento, sono dieci anni. Che differenza hai notato con l'AFA rispetto alle altre ginnastiche? Sto molto meglio con i dolori alla colonna vertebra, molto meglio. Rosa è una di quelle allieve che non perde neanche una lezione? Lo faccio per salute, insomma, altrimenti anche se perdo qualche lezione me ne accorgo perché ricominciare è parecchio difficile. Ok, va bene. E questo corso quante volte a settimana? Io per i miei problemi vengo due volte alla settimana, di più non posso. Sarebbe meglio venire tre volte alla settimana, però anche con due volte io vado molto bene. Ok, Rosa, grazie. Adesso passiamo la parola all'istruttrice, Annelise Corman, che è istruttrice di questo corso da più di dieci anni. Annelise, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ok, adesso magari ci racconti un po' meglio tu che sei parte attiva di questo corso della WISP Valle d'Itria, di cosa si tratta, insomma, dici tu un po'. Dunque questo corso, come ha detto già Stefania, si tratta per persone che hanno problemi con la schiena. Però nelle nostre attività abbiamo tante altre attività come la ginnastica dolce, abbiamo anche un gruppo a Parkinson, facciamo la ginnastica a domicilio, abbiamo i gruppi di cammino, dunque siamo attivi su tutti i fronti. che altro dire? Illustraci un po' cosa stanno facendo. Adesso, per esempio, stanno facendo esercizi per questo un po' rilassamento e allungamento della schiena. Ricordiamo che l'allungamento, per chi ha problemi di schiena, lo stretching in generale è proprio l'ideale, no? Sì, sì, è proprio l'ideale perché soprattutto la zona lombare è la parte più dolorante di quasi tutti gli adulti e anziani. Dunque questo gruppo viene normalmente o due o tre volte alla settimana, lavoriamo da settembre fino a luglio e sospendiamo le attività solo durante i due mesi delle vacanze, diciamo. Bene, ok, adesso continuiamo a guardare un po' la lezione. Ricordiamo che, come ha appena detto Annelise, che il tratto lombare è il tratto che più viene sollecitato tutti i giorni, sia per posture che per vizi o problematiche anche vertebrali e posturali e quindi si va a fare un lavoro intenso su questo. Bene, concludiamo questa diretta. da Martina Franca, dalla polisportiva Arci di Martina Franca, il corso AFA mal di schiena, condotto e promosso dalla WISP Valle d'Itria. Salutiamo, un saluto da Stefania e da tutti loro. salutate. E ricordiamoci, now we move.